Buongiorno amici, oggi 22 novembre e da noi è una giornata più o meno diciamo non con il soleggiata, il sole è là fra le nuvole, non so se riesco a farvelo vedere, ma non riesco a farvelo vedere. E dove è? Voglio inquadrarlo, adesso vediamo se riesco a inquadrarlo. Dov'è? Non si vede, non riesco a farvelo vedere, non fa niente. Io ho dato già da mangiare alle mie galline e adesso vado a raccogliere i funghi, vi faccio vedere i nostri funghi, i miei funghi, guardate, vedete? Che bei funghi, ciccioni! Vado a raccoglierli, vado a raccogliere questi funghi. Adesso, non so come tenieri, farvi vedere, farvi vedere quello che sto facendo. Eccoli qua, allora, con il forbice, taglio, eccolo, fungo, ciccioni, bello ciccioni! Che buon profumo che ha! Buonissimo! Ma io ho la ciotola, mi sembra troppo piccola, per... E come si dice, la radice lo lascio perché al prossimo anno, vedete? Che ciccioni! Il prossimo anno farà altre funghi. Se noi non tagliamo la radice, così, e oggi si fa un piatto di funghi. Guardate, che belli! La natura ci dà tutto, grazie, e grazie, madre terra, dei funghi che mi hai dato. Vedetele? Guardate, i funghi, belli! Non mi ricordo come si chiamano. Comunque sono buoni. Allora, andiamo qua. Ci sono altri. Eccoli qua. Sotto i olivi crescono. Vedete? Qua ci sono altri. Li tagliamo anche questi. Ecco, li mettiamo nella ciotola. Non serve andare in bosco. Abbiamo i funghi a casa. Non serve andare in bosco. Allora... vado, continuo a camminare, a vedere dove ho altri. Qua ci sono altri, più piccolini. Vedete? Ma questi già sono consumati. Allora non li prendiamo. Li taglio e li lascio così. Perché questi sono già troppi giorni. Troppi giorni che sono cresciuti e si, come si dice, si consumano. Va bene. E voi come state? Come sta la vostra anima? Io sto benissimo. Perché sento l'energia dell'universo, sento l'energia delle pianeti, sento l'energia dei antenati che sono vicino a me, eh? In questo periodo importante della vita. Perché io faccio meditazioni, io chiedo la loro forza, io chiedo, le dico che non sono da sola, le sento che mi amano. Mi sembra là che ci sono altri. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Sì. Andiamo. Vedete qua? Abbiamo le rappe. Guardate che belle rappe. Queste sono le rappe. Buone gemine. E qua abbiamo i cardani. Vedete i cardani? Belli cardani. Io ho anche dei fagioli. Devo venire a raccogliere i fagioli. Ci sono. Devo venire a raccoglierli. Andiamo a prendere quei altri funghi. Funghi, funghetti. Eccoli. Guardateli come mi aspettano. Vedetele? Sono tutti qua nel mucchio che mi aspettano che io li raccolgo. La natura ci dà tutto. Basta che noi andiamo e con rispetto prendiamo e ringraziamo. Senza danneggiare. Guardate quanti. Questi sono più piccolini. Però va benissimo. Va benissimo. Andate. Buoni funghetti. Buoni funghetti. Lasciatemi commenti sotto se a voi piacciono i funghi e se anche voi andate a raccogliere i funghi. Adesso parlerò un po' in moldavo perché così mi capiscono anche gli amici moldavi. E amici ruse. Parlerò anche russo. Bună ziua, dragi prieteni. Azi, azi eu strâng ciuperci din grădina mea. O pluat și o ieșit ciupercile. Azi, azi o să fac ciuperci. Și dacă o să am mai multe, o să le conservez. Vedeți câte ciuperci am strâns? Dar s-a împlut s-a împlut farfuria. Ori, cum zicem noi, strachena. Azi, azi o ieșit ciuperci buoni. Здравствуйте, дорогие друзья! Eu вас всех люблю, уважаю. Stage 3 Vă s-a împlut 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 E-mplut S-a împlut S-a împlut mi dàò questi gribi ecco ecco пишete mi i commenti se e voi si ricordate gribi se e voi in vostro sado rastut gribi e va bene fernando ok guardi quanto io ho fatto tantissime sto parlando e razzuare s 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 ecco 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 no miei bella bella ire la e ee ee приготовьтесь для того чтобы в коридор пришли новые жизни чтобы радовались ee постарайтесь учить что надо делать для того чтобы пройти коридор я всех вас хочу встречаться с вами в новой жизни знаете что сейчас период новой жизни чтобы пройти в новой жизни а есть все таки некоторые правила что надо соблюдать и надо было приготовиться еще от раньше на эту на этот переход ну смотрите вы сами идите информируйтесь учитесь потому что для нас самое лучшее богатство это знание когда мы учимся мы развиваемся и нас не могут манипулировать а достаточно манипуляции есть сегодня но вы не смотрите на то что другие говорят вы слушайте вашу душу и делайте то что вам говорит ваша душа и не надо бояться не надо попасть в тот канал страха в тот туннель нет не сдавайтесь я знаю что народ русский потому что и я имею кровь русская у меня мама русская отец молдаван и я знаю что мы трудолюбивые мы умные мы хотим мы желаем развиваться и нам и нам свобода очень важна и не надо сдаваться это такая война что психологическая а не надо сдаваться берегите себя будьте счастливы я желаю много 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 счастья много улыбок много развития много то что желаю себе то и желаю вам много денег большие чеки и кто хочет узнать по про канкрии бизнес канкрии со золотом бриллиантами и камни драгоценные я развиваю этот бизнес очень хорошая компания платит каждый день очень выгодно работать с этой компанией если вы хотите узнать как заработать с компанией канкрии спросите пишите мне под видео и я вам отвечу дам телеграм мой и будем разговаривать в телеграме и в зуме хорошо желаю вам хорошего дня пока бачи бачи фернанда салута с петта чао до фернанда бона джорната хороший день всем па па лавидио витор па